eccoci e bentornati sul mio canale oggi finalmente torniamo a parlare di call of duty black ops 3 con un rumor veramente molto interessante che ho trovato online perché c'è un'indiscrezione che sta facendo il giro della rete ed è veramente molto curiosa ve la volevo proporre così ci scambiamo pareri ed idee su questo rumor e qui sotto nei commenti fate sapere qual è il vostro pensiero sta parlando di un presunto e nuovo lancio di rifornimenti all'interno del gioco che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni nelle prossime settimane quindi un nuovo supply drop l'immagine che state vedendo andrebbe a confermare un nuovo pacchetto che prenderebbe il nome di super supply drop al costo di 80 cripto chiavi oppure 400 call of duty point quindi veramente oneroso rispetto a un supply drop comune e addirittura a un supply drop raro se questo pacchetto venisse confermato quasi sicuramente al centerno potremo trovare di tutto e di più sicuramente armi sicuramente contenuti epici e leggendari quindi qualcosa veramente di assurdo all'interno del multiplayer di call of duty black ops 3 però come sempre in tutti i rumor che vi riporto di call of duty infinite warfare di call of duty black ops 3 la veridicità può essere al 50 per cento quindi può essere tranquillamente fake utilizzando photoshop hanno cambiato il colore hanno creato questo nuovo supply drop oppure può essere il primo indizio che va a confermare l'arrivo di un nuovo supply drop e per l'esattezza un super lancio di rifornimenti per il mercato nero per il black market di call of duty black ops 3 vi darò aggiornati ovviamente in questi giorni sulla veridicità dello screen qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale